A proposito di attualità, ci riserviamo adesso uno spazio per andare a proporvi alcune news che riguardano questi giorni. Chiedo alla regia se in collegamento con noi il primo ospite di oggi, che il dottor Antonio Palmieri, presidente e ideatore del premio per la comunicazione costruttiva, ha davvero una bella intuizione, appena lo vedrò nello schermo, Maria Pia, gli faremo qualche domanda, chiacchiereremo con lui, il fatto di non vederlo mi dà ragione di pensare che il collegamento non sia pronto. E a proposito comunque di sfruttare anche questi piccoli margini di tempo, voglio ricordare quello che ha detto il Papa, non la vendetta nell'odio bellico, ricevendo appunto la conferenza europea dei rabbini, perché abbiamo appena sfiorato questa notizia, che invece è molto rilevante, come tutti comprenderanno. L'importanza nello Stato di Israele e dell'aspetto della fede è sempre anche ai nostri giorni di una grande rilevanza, ma oltre all'attualità c'è la questione in generale del dialogo tra i cristiani e gli ebrei, tra i cattolici e gli ebrei, un dialogo che è sempre più fiorito, un po' di colpo diciamo, rispetto ai secoli bui del passato e con gli ultimi pontefici in particolare. Poi Papa Francesco ha raccontato tante volte della sua confidenza proprio con il mondo della fede ebraica, grazie al rabbino Scorca, un suo grande amico argentino. Quindi ci sembrava notevole ricordare anche questo evento di ieri, nonostante quel dettaglio che tu hai ricordato. Hai fatto benissimo, sono stati giorni molto intensi, ricchi di tante belle notizie e questo ci rallegra. Per passare da Papa Francesco a San Francesco, i più attenti ricorderanno che abbiamo parlato settimana scorsa della prima maratona di San Francesco, che ha avuto luogo domenica scorsa, quindi solo l'altro ieri ad Assisi ne parlavamo con il suo curatore, padre Federico Claure, che con molta emozione e partecipazione ci raccontava il duro lavoro che era stato messo in campo per realizzare questa manifestazione. Si temeva il maltempo, probabilmente ricorderete che noi in diretta ci siamo sbilanciati dicendo che padre Pio avrebbe fatto sprendere il sole ed è stato così. Non so se la regia... Che temerari! Non so se la regia riesce a condividerci qualche immagine, ma credo che facciamo una piccola pausa rispetto alla maratona di San Francesco perché vedo nel monitor in collegamento il dottor Antonio Palmieri del premio Comunicazione Costruttiva che siamo felicissimi di avere qui con noi stamattina. Buongiorno Presidente, ben trovato! Buongiorno, buongiorno a voi! Grazie per l'ospitalità! Grazie a voi per la disponibilità perché questo premio che nasce quest'anno, in questo 2023, un anno purtroppo segnato da tante e troppe guerre, ci fa particolarmente felici perché è un premio dedicato alla comunicazione del digitale e premia i professionisti dell'informazione e della comunicazione che si sono distinti nella promozione di comunicazione che aumenta consapevolezza, coesione e responsabilità sociale. Quindi benvenuti e complimenti per questa intuizione. Come stanno procedendo i lavori perché il premio sarà conferito il 13 di questo mese, se non ricordo male? Esatto, lunedì prossimo a Milano, al Teatro dei Filodrammatici e tutto procede per il meglio, abbiamo tutti i nostri premiati, avremo in esclusiva per la Fondazione Pensiero Solido il sondaggio di Utrend su come gli italiani si informano rispetto al digitale e qual è il loro sentimento, le loro sensazioni, quali sono i loro pensieri rispetto al grande tema dell'intelligenza artificiale generativa che ci interpella tutti. E così ci dà una piccola anticipazione, Presidente, naturalmente, piccolissima. Una piccola anticipazione del sondaggio? Allora, vediamo cosa posso dirvi. Posso dirvi questo sì, che la gran parte degli italiani chiede un intervento regolatorio da parte delle istituzioni nazionali e internazionali. quindi quasi come un senso di ricerca di protezione da parte delle istituzioni, istituzioni che come abbiamo potuto vedere anche settimana scorsa il Presidente Biden ha fatto un ordine esecutivo rivolto alle grandi aziende dell'intelligenza artificiale, il Premier britannico ha convocato a Londra questo summit sull'intelligenza artificiale, il G7 ha emanato un codice di condotta sempre sul tema dell'intelligenza artificiale generativa. La Premier Meloni ha annunciato, ha ribadito, che il tema sarà oggetto del G7 che avremo in Puglia a metà giugno e che convocherà in primavera a Roma una conferenza internazionale su intelligenza artificiale e lavoro. Quindi, come si vede, il tema è molto caldo. Noi, come Fondazione Pensiero Solido, ci stiamo lavorando già dallo scorso marzo. Abbiamo fatto il 19 maggio a Milano quella che io chiamo una maratona dell'intelligenza artificiale con 25 interventi dalle big tech al teologo, al filosofo, alle aziende italiane che operano con l'intelligenza artificiale, a chi si occupa di lavoro, di sanità, sempre usando naturalmente l'intelligenza artificiale generativa. Insomma, stiamo facendo, abbiamo fatto e continuiamo a fare un lavoro su questo tema perché è appunto un ambito nel quale bisogna fare buona comunicazione. Ho visto che tra i premiati c'è un nostro amico che è Bruno Mastroianni, gli faremo i complimenti, ma soprattutto io volevo citare il premio alla carriera a Derek De Kerkhove. Vuole sinteticamente dire a tutti i nostri telespettatori chi è questo personaggio straordinario? Allora, Derek è stato il primo allievo di Marshall McLuhan che nel secolo scorso è stato il più grande studioso dei media, naturalmente dell'epoca, ma con aperture di intelligenza notevoli e straordinarie che sono utili ancora ai giorni nostri. Derek è stato appunto il suo allievo principale, noi lo premiamo alla carriera per la sua carriera e per la rivista Media 2000 che appunto da 40 anni cerca di spiegare con una comunicazione costruttiva a tutti in un modo chiaro e comprensibile le evoluzioni dei media e quindi sono partiti 40 anni fa con la televisione, la stampa e la radio dell'epoca e adesso continuano in questo ambito e naturalmente hanno aggiunto in questi ultimi decenni l'ambito e tutti gli strumenti che il digitale ci mette a disposizione. Quindi è uno studioso, una persona per bene innanzitutto, è capace di comunicare in modo comprensibile a tutti e per questo ci sembrava giusto dargli il premio alla carriera in questa prima edizione della nostra Kermess che l'anno prossimo premierà i comunicatori della sostenibilità, l'anno successivo 2025 i comunicatori dell'educazione e nel 2026 stiamo valutando di approcciare il tema della comunicazione politica. Carissimo Presidente, colgo l'occasione al volo per informarla che noi proprio quest'anno abbiamo lanciato un programma doc sulla sostenibilità che si chiama La regola della sostenibilità da Francesco a Francesco e che il nostro network Padre Pio TV si candida a essere proprio un network della sostenibilità cristiana ovviamente ma che poi sottintende quella sociale, economica e ovviamente ambientale. Per cui c'è grande sintonia. Allora parliamone, parliamone perché sarete protagonisti l'anno prossimo. Già mi emoziono al pensiero di avervi con voi l'anno prossimo. Abbiamo in sospeso direi Tony. Ma cosa bella Maria Pia, perdonami se ti interrompo che è stata Presidente una cosa assolutamente non voluta Ah beh certo, infatti ci siamo guardati tra noi. No, no, assolutamente, assolutamente. Io invece credo che qualche secondo lo dobbiamo dedicare anche all'aggettivo solida, il pensiero solido perché è in contrapposizione a debole o a cosa. Sono molto curioso. Allora diciamo, noi non vogliamo essere in contrapposizione a nessuno. però il nome deriva dal fatto che viviamo un'epoca di continuo cambiamento impetuoso, travolgente che ha una velocità insostenibile per noi esseri umani che siamo lenti rispetto al cambiamento allora in questo ambito abbiamo bisogno di abbracciarci a qualcosa appunto di solido e non di solito con la T come dico sempre presentando la fondazione pensiero solido mi raccomando con la D e non con la T e per questo abbiamo messo insieme e continuiamo a mettere insieme persone che riflettono e agiscono di conseguenza nella società soprattutto negli ambiti che riguardano le grandi trasformazioni in atto quella digitale, quella ambientale e qui torniamo al tema della sostenibilità quella sociale per questo lo chiamiamo solido Temi che sono a noi assolutamente cari per questo motivo mi auguro che ci si possa risentire già prossima settimana per scoprire che cosa è successo appunto durante il premio per la comunicazione Assolutamente Assolutamente un grande piacere e così poi avremo modo di commentare compiutamente tutti i dati della ricerca di Utrend con pensiero solido Benissimo E mi sembra un sogno che un milanese abbia quasi sdoganato chi non è velocissimo nei cambiamenti nell'accettare appunto il digitale e quant'altro Grazie Lei oggi mi ha portato un raggio di sole in studio Mi ha portato un raggio di sole in studio Allora il milanese interista è contentissimo di questo raggio di sole spero che duri indefinitivamente così da a meno come dire completare questa giornata in attesa di rivederci Bene, di cuori nerazzurri qui ne troverà a sufficienza Per cui arrivederci e grazie mille per la disponibilità No, grazie a voi è davvero pensiero solido vuol dire che le parole che vengono dette vengono dette perché non sono solo parole ma devono diventare azioni e quindi veramente dobbiamo approfondire il vostro lavoro sulla sostenibilità Mi raccomando non corra troppo Grazie mille No, no, no Chi va piano, va sano e va lontano ma questa è un'epoca in cui comunque bisogna continuare ad andare perché non si può rimanere fermi o peggio ancora attestati su una posizione di nostalgia per i bei tempi che furono Certamente Grazie Anche questa è una preziosissima osservazione quindi con il presidente della fondazione Pensiero Solido e ideatore della prima edizione del premio comunicazione costruttiva ci risentiremo, ci ritroveremo presto noi per il momento però ci fermiamo un attimo poi ritorniamo subito insieme